Il mondo delle distribuzioni Linux è vasto e variegato. Tra le opzioni più recenti e innovative spiccano le distribuzioni immutabili, concetto che sta guadagnando sempre più popolarità. Esploreremo la gestione tradizionale del sistema, di pacchetti e aggiornamenti, evidenziando le differenze con le immutabili. Vedremo vantaggi, scenari in cui si distinguono e una carrellata delle più popolari. Ciao da Dario. Nel panorama Linux i sistemi operativi sono generalmente progettati per essere flessibili e configurabili, consentendo agli amministratori di apportare modifiche in qualunque momento al sistema operativo e alle applicazioni installate. Il file system è montato, cioè caricato, in modalità di lettura-scrittura, il che significa che gli amministratori possono modificare i file di sistema e le configurazioni a loro discrezione. Aggiornamenti di sistema e dei programmi sono applicati in modo incrementale. I pacchetti software vengono scaricati e installati, quando disponibili, nel sistema attivo. Gli utenti possono installare, aggiornare o rimuovere pacchetti gestendo le dipendenze manualmente. Questo approccio permette una grande flessibilità, ma può portare a inconsistenze e ai conflitti di dipendenze, causando problemi specialmente in ambienti critici. Le distribuzioni Linux e immutabili presentano un paradigma differente. In queste ultime, il file system principale è montato in sola lettura, il che impedisce, di regola, ad utenti e amministratori di apportare modifiche dirette ai file di sistema. Questo approccio mira a garantire coerenza e stabilità del sistema operativo, prevenendo modifiche non autorizzate che potrebbero compromettere la sicurezza e la coerenza del sistema. Quando sono disponibili aggiornamenti di sistema o dei programmi, viene creata una versione completamente nuova del sistema, che integra i nuovi pacchetti, le modifiche e le configurazioni necessarie. L'immagine del sistema rimane immutata durante l'utilizzo, dopo ogni riavvio e gli aggiornamenti vengono applicati solo creando una nuova immagine. In breve, mentre nei sistemi tradizionali Linux gli amministratori hanno il controllo completo e la flessibilità per apportare modifiche in qualsiasi momento, nei sistemi immutabili con file system in sola lettura, l'accento è posto sulla coerenza, sulla sicurezza e sulla facilità di gestione. Le distro immutabili, di grande moda ai nostri giorni, hanno radici che risalgono a diversi anni fa. Queste distribuzioni hanno contribuito a plasmare il concetto di immutabilità nel contesto Linux, influenzando lo sviluppo e la progettazione di sistemi operativi. L'adozione di queste pratiche è stata guidata principalmente dalla necessità di garantire stabilità, sicurezza, e facilità di gestione, prima di tutto in ambienti complessi. Questo differente approccio delle distribuzioni immutabili nella gestione del sistema e dei pacchetti presenta una serie di caratteristiche interessanti, tra cui read-only, sola lettura. Come accennato, caratteristica principale di un sistema operativo immutabile è che alcune parti di esso o l'intero file system root viene montato in sola lettura e non può essere modificato direttamente dall'utente o dalle applicazioni. Ciò è particolarmente vero per sistemi desktop, con alcune eccezioni. Stabilità e riproducibilità. Le distribuzioni immutabili assicurano che ogni installazione sia identica su qualunque PC venga eseguita, garantendo stabilità e riproducibilità anche su computer dalle caratteristiche differenti. Rollback, cioè ripristino, semplificato. In caso di problemi, a seguito di un aggiornamento, è possibile tornare rapidamente a una versione precedente, garantendo massima affidabilità e stabilità del sistema, senza complicazioni e senza nemmeno prevedere e pianificare istantanee del sistema. File system overlay. L'immutabilità non è sinonimo di immodificabilità. L'utente deve poter salvare documenti ed eseguire operazioni che producano effetti nel tempo. Si ricorre spesso all'overlay, letteralmente sovrapposizione, di file system. A quello del sistema ne viene sovrapposto un altro, separato, che permette all'utente una certa autonomia, senza rischi per quello principale sottostante. Isolamento dei pacchetti. Dal momento che il sistema è immutabile, le applicazioni vengono spesso eseguite in appositi contenitori, isolati dal resto del sistema e sono solitamente fornite di tutte le dipendenze, condividendo con il sistema stesso solo parte delle risorse, con ciò riducendo il rischio di conflitti tra pacchetti. Sicurezza potenziata. La natura immutabile garantisce quindi massimi livelli di sicurezza ed una riduzione della cosiddetta superficie di attacco grazie alla protezione da modifiche non autorizzate o errori. Le distribuzioni immutabili non nascono per l'uso dell'utente comune e si rivelano particolarmente adatte in scenari come ambienti server critici, dove stabilità e sicurezza sono prioritarie. Ambienti di sviluppo, per garantire che tutte le persone coinvolte lavorino nello stesso ambiente di sviluppo. IoT, internet delle cose, per garantire maggiore sicurezza e semplicità di gestione di dispositivi elettronici di ogni genere. Sistemi distribuiti, per semplificare la gestione di cosiddetti cluster e infrastrutture distribuite. Ciò nonostante, in linea con le tendenze più recenti, differenti sistemi operativi immutabili si stanno proponendo in versione desktop anche per l'utilizzo quotidiano di singoli utenti. Spesso associato alle distribuzioni Linux immutabili è il concetto di aggiornamenti atomici o transazionali. In termini semplici, un aggiornamento atomico è un'operazione che viene eseguita completamente o non viene eseguita affatto. Questo principio si ispira al mondo dei database, dove un'operazione è considerata un'entità indivisibile anche se consiste in una serie di differenti passaggi per il completamento. Quando si applica un aggiornamento atomico in una distribuzione immutabile, il sistema operativo viene ricostruito per intero tramite una nuova immagine che ricomprende le modifiche apportate. Questa immagine viene quindi resa attiva e sostituisce la precedente. Se l'aggiornamento fallisce per qualsiasi motivo, il sistema può facilmente tornare allo stato precedente mantenendo integrità e operatività senza complicazioni. I principali vantaggi degli aggiornamenti atomici sono quindi consistenza. Gli aggiornamenti atomici garantiscono che il sistema sia sempre in uno stato coerente e funzionante. Rollback sicuro. In caso di problemi durante l'aggiornamento, il sistema può essere facilmente ripristinato alla versione precedente senza complicazioni né impatti negativi. Riproducibilità. Ogni aggiornamento atomico è un evento isolato e ciò garantisce che l'ambiente rimanga coerente e prevedibile in qualunque computer venga eseguito. La protezione da modifiche per le parti più delicate del sistema e la particolare attenzione alla sicurezza impongono di adottare particolari accorgimenti per l'installazione di nuovi software. Gli approcci più comuni nelle distribuzioni Linux mutabili sono la containerizzazione, la gestione dichiarativa e gli store basati su Flatpak e Snap. Nelle distribuzioni mutabili l'installazione di programmi spesso avviene attraverso l'uso di container. Questo approccio consente di isolare dal resto del sistema l'esecuzione di una o più applicazioni in quella che è definita una sandbox. Immagina un container come una piccola scatola virtuale che include tutto ciò di cui un'applicazione necessita per funzionare, il codice dell'applicazione, le librerie di supporto e tutte le altre cose di cui ha bisogno, le cosiddette dipendenze. Puoi quindi eseguire facilmente questo container su qualsiasi altro computer o server che supporti container senza preoccuparti delle differenze di configurazione del sistema ospite. Containerizzare un'applicazione è come metterla in una scatola magica. Ciò la rende più facile da spostare e gestire e garantisce che funzioni sempre nello stesso modo ovunque venga eseguita. Una minima condivisione di risorse e dipendenze del sistema riduce così il rischio di conflitti. L'uso di ambienti isolati facilita anche la pulizia del sistema. Se si decide di rimuovere un'applicazione, l'intero suo ambiente isolato può essere facilmente eliminato senza influenzare altri componenti del sistema. I meccanismi ad oggi più utilizzati per containerizzare applicazioni sono Docker, Podman e Kubernetes. Questi includono una porzione di sistema operativo che sfrutta il kernel e alcuni servizi del sistema ospite per funzionare in una sorta di macchina virtuale semplificata. Un differente approccio per l'installazione di programmi, e non solo, è quello della cosiddetta gestione dichiarativa dei pacchetti e della configurazione del sistema, adottata ad esempio da NixOS. Con la gestione dichiarativa, l'utente dichiara in modo esplicito cosa desidera nel sistema, piuttosto che apportare modifiche dirette. In NixOS la configurazione è affidata ad un file, configuration.nix, in cui si dichiara infatti come deve essere configurato il sistema, quali pacchetti installare e quali servizi devono essere attivi. Questo innovativo approccio garantisce che installazione e gestione delle applicazioni siano prevedibili e riproducibili. Per riproducibilità si intende che gli sviluppatori possono condividere facilmente il solo file di configurazione, il che basta a garantire che tutti lavorino con lo stesso ambiente. Quando si installa un pacchetto o si configura un servizio, NixOS crea un ambiente isolato per quel pacchetto. Ogni pacchetto ha le sue copie delle librerie e delle dipendenze specifiche necessarie per eseguire quell'applicazione. Questo elimina la necessità di condividere le librerie di sistema globali tra le applicazioni. Inoltre riduce significativamente i conflitti tra applicazioni che potrebbero richiedere versioni diverse di librerie o dipendenze. Alcune distribuzioni immutabili, specie quelle rivolte all'utente comune, possono includere uno store di applicazioni centralizzato che semplifica il processo di installazione di nuovi programmi. Spesso si tratta di applicazioni che prevedono già un'esecuzione isolata dal sistema, come quelle installabili in formato Flatpak da Flathub e gli snap dello store Ubuntu. Anche il formato portabile e indipendente dalla distribuzione AppImage trova spazio e applicazione nelle distro immutabili. Tuttavia, e in tutti gli altri casi, come ho detto poc'anzi, installare programmi aggiuntivi in una distro immutabile richiede l'aggiornamento dell'intera immagine del sistema. Ed ora passiamo in rassegna a una serie delle distro immutabili più popolari. Fedora Silver Blue L'edizione Silver Blue di Fedora, storica distribuzione di Red Hat, è una variante di Fedora Workstation e si propone come sistema operativo immutabile. È rivolta principalmente a professionisti dell'informatica, specie sviluppatori di software grazie al supporto avanzato di container. L'esperienza desktop risulta identica a quella dell'edizione Workstation Standard, ma il sistema è il medesimo in qualunque computer lo si esegua. Gli aggiornamenti sono veloci e non c'è attesa per l'installazione. Un normale riavvio normalmente è sufficiente per utilizzare l'ultima versione disponibile o tornare a una versione precedente se necessario. Vanilla OS. Vanilla OS nasce su iniziativa del medesimo sviluppatore italiano cui dobbiamo l'applicazione Battles per la migliore gestione in Linux di software per Windows. È un sistema basato su Ubuntu con ambiente GNOME puro. Si propone di superare alcuni limiti di vari sistemi operativi tradizionali nell'affidabilità, nella gestione di aggiornamenti e nella disponibilità di software spesso datati che costringono all'uso di Flatpak o Snap. Vanilla OS prevede un file system montato in sola lettura, tipico delle distribuzioni immutabili, associato ad un cestore di pacchetti appositamente previsto. APX allestisce un container per ogni programma installato e lo isola dal sistema. Oltre al supporto per software su base Debian Ubuntu permette l'integrazione di pacchetti APK, AUR e DNF di Fedora. Aggiornamenti atomici intelligenti ed automatici garantiscono l'applicazione nei momenti di minore carico sulle risorse e fanno di Vanilla OS un sistema assai promettente. Blend OS. Blend OS è una rolling release su base Archie che si propone come soluzione al distro hopping. Oltre al proprio gestore di pacchetti Blend e a quello Pacman per l'installazione dai repository Archie, grazie al ricorso combinato di Podman e Distrobox, anch'esso opera di un italiano, Blend OS permette di integrare nativamente anche pacchetti APT di Debian Ubuntu e DNF di Fedora. Si tratta di una distribuzione immutabile, atomica e dichiarativa, che prevede una ISO dotata del minimo indispensabile in stile Archie. Una volta integrate le estensioni APT e DNF, Blend OS allestisce un apposito contenitore per tutti i medesimi pacchetti della stessa natura. Blend OS prevede l'ambiente GNOME e Weyland, ma supporta anche KDE, MATE e XFCE. Nix OS. Nix OS, lanciato nel 2013, non è stato originariamente concepito come una distribuzione immutabile, ma il suo modello dichiarativo di gestione dei pacchetti e la capacità di rollback hanno contribuito al concetto di immutabilità. La gestione dichiarativa è stata un antesignano delle distribuzioni immutabili moderne. Nix OS implementa aggiornamenti atomici attraverso il concetto di generazione. Ad ogni modifica ha luogo una nuova generazione dell'ambiente. Gli utenti possono facilmente passare da una generazione all'altra garantendo un rollback sicuro in caso di problemi. Ubuntu Core Desktop Canonical, la società di Atroubuntu, ha introdotto Ubuntu Core nel 2014. Progettato principalmente per dispositivi IoT e altri dispositivi non desktop, Ubuntu Core presenta un sistema di aggiornamenti atomici e una gestione snodata dei pacchetti affidata a Snap. Malgrado gli ambiti di adozioni originariamente previsti in concomitanza con il lancio della versione 24.04 LTS, prevista per la primavera 2024, sarà resa disponibile anche una versione desktop immutabile di Ubuntu che integrerà esclusivamente pacchetti Snap. Evidentemente Canonical ritiene che i tempi siano maturi per questo tipo di soluzioni, che si tratti di semplificazione nella gestione di ambienti complessi o dell'utente comune che non potrà danneggiare involontariamente il sistema con il risultato di maggiore affidabilità. Endless OS Endless OS è una distribuzione Linux basata su Debian e rilasciata con ambiente GNOME. Progettata per essere intuitiva, accessibile e focalizzata sull'accesso a risorse educative e informative. Un'edizione minima prevede una ISO di circa 3,5 GB, ma sono previste anche edizioni in inglese, francese, spagnolo e portoghese che integrano una ricchissima dotazione di software e una versione offline di Wikipedia che fanno lievitare le ISO oltre i 14 GB ciascuna. Queste ultime hanno lo scopo dichiarato di rendere accessibili importanti risorse educative anche laddove una connessione internet stabile non sia possibile. Endless OS implementa un file system denominato Immortale che consente agli utenti di eseguire il rollback del sistema a uno stato precedente in caso di problemi. OpenSUSE, EON e Calpa EON e Calpa sono recenti novità introdotte dalla comunità OpenSUSE e si prefiggono lo scopo di far confluire l'esperienza maturata con l'OS minimale Micro OS nel desktop della workstation Tumbleweed. File system immutabile e controllo di versione, aggiornamenti atomici e l'ampio affidamento su container fanno di esse esempi calzanti di distribuzioni Linux immutabili. Le principali differenze tra EON e Calpa risiedono negli ambienti desktop adottati, rispettivamente GNOME e Plasma. Il sistema operativo è minimo e si presta ad un'ampissima gamma di applicazioni, è scalabile, quindi adatto a dispiegamenti massivi su grandi reti ma nello stesso tempo è in grado di offrire il massimo anche su una singola macchina. Concludono la mia carrellata di distribuzioni Linux immutabili per il desktop alcune segnalazioni di altri più o meno nuovi e promettenti. RELAX OS, progetto indipendente e costruito da zero su desktop XFCE, immutabile, atomico e ottimizzato per i container. CARBON OS, anch'esso indipendente, immutabile, atomico e rilasciato con ambiente GNOME. TALOS Linux, si definisce il sistema operativo per il gestore di contenitori Kubernetes che funziona con molti sistemi di containerizzazione compreso Docker. FLATCARL Container Linux, progetto comunitario creato per flussi di lavoro basati su container. GUIX, distro immutabile del progetto GNU con gestione dichiarativa di pacchetti, aggiornamenti atomici e rollback semplificati. BATTLE ROCKET, la distro Linux immutabile progettata da Amazon Web Services per eseguire container ed ottimizzata per l'infrastruttura EC2. Riassumendo, le distribuzioni Linux immutabili offrono una prospettiva innovativa sulla gestione del software, con vantaggi significativi in termini di consistenza e sicurezza. Gli aggiornamenti atomici sono la linfa vitale delle distribuzioni Linux immutabili, assicurando la stabilità e la sicurezza del sistema operativo. Questo approccio rivoluziona la gestione del software, fornendo un modo robusto e coerente per mantenere i sistemi aggiornati. È essenziale considerare attentamente le possibilità e le limitazioni, valutando se l'approccio immutabile si adatti alle esigenze specifiche dell'utente o dell'organizzazione. L'uso di container, la gestione dichiarativa e strumenti specifici della distribuzione possono renderli processo più agevole, ma richiedono una curva di apprendimento per gli utenti meno esperti. Questi ultimi possono comunque contare su una grande affidabilità del sistema e sull'integrazione di software in formati come Flatpak, Snap e AppImage per ridurre al minimo i problemi di inconsistenze. Ti ricordo di visitare la pagina blog con il testo di questo video per tutti i link e risorse aggiornate. Metto il link nella descrizione. E tu hai già sperimentato distribuzioni Linux immutabili? Faccelo sapere nei commenti. Ti piacerebbe che approfondissi con un apposito focus una di quelle citate? A tal proposito ho allestito un sondaggio nella sezione community del canale YouTube. Grazie per la visione e a presto.